Nave Black Sea, sbarco di 70 migranti, fermato scafista ucraino di 29 anni. Nella serata di ieri, agente della squadra mobile insieme ai militari della Guardia di Finanza hanno preceduto a fermo l'indizionato di delitto di un cittadino ucraino di 29 anni accusato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'arresto è stato correlato allo sbarco di 70 migranti di varie nazionalità asiatiche giunte nelle coste di Noto a bordo di una imbarcazione a vela denominata Black Sea e intercettata dalle unità navali della Finanza e della Capitania di Porto. Dopo lo sbarco, gli immigranti sono stati condotti presso il porto di Augusta per le previste operazioni di identificazione e fotosegnalamento. In specie, nelle prime ore della giornata di ieri, l'arrestato insieme ad altri tre stranieri è stato rintracciato sull'autostrada Siracusa-Gela all'altezza dello svincolo di Rosolini e da una pattuglia della Polizia Stadale di Noto. La presenza dei quattro emigranti, pertanto, è stata ricollegata al veliero intercettato in località Calamosca, nella cui spiaggia è stato rinvenuto e sequestrato il tendere utilizzato dai medesimi per raggiungere la riva. Le dichiarazioni rese dai migranti circa la dinamica dell'attraversata e la conduzione dell'imbarcazione opportunamente riscontrate hanno consentito di procedere al fermo di indiziato del delitto a carico dello stesso cittadino ucraino. Al termine delle incombenze di rito, il 29enne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.